Il Tethering attraverso Bluetooth uno dei modi per condividere la propria connessione dati con telefonini che ne sono sprovvisti. In pratica, uno smartphone dotato di connessione 3G può fungere da gateway per consentire a un secondo smartphone di connettersi alla rete. Il processo possibile, non solo attraverso la tecnologia Bluetooth, ma anche attraverso la connessione Wi-Fi o il cavo USB. Vediamo, per, nello specifico, come funziona il Tethering Bluetooth. Il Tethering è una funzionalità di cui abbiamo più volte parlato. Permette, in pratica, di condividere la connessione internet di un dispositivo con altri dispositivi che ne sono sprovvisti. Questi possono essere smartphone, notebook o PC. Lo smartphone si trasforma, quindi, in un vero e proprio hotspot. Il Tethering presente in tutte le versioni di Android. Il sistema operativo di Google. A partire da Froyo. Cio da Android 2.2. Possiamo ricordare, per, che la prima ad introdurre il Tethering di base su Android fu la Samsung ai tempi del Galaxy S con. Il sistema operativo è Clare. Cio Android 2.1. Oggi. Potete trovare questa funzione su tutti i dispositivi Android. Vi basterà andare nelle impostazioni del telefono e cercare la voce altre impostazioni oppure altro. Nella sezione wireless rete. Da elle avrete la possibilità di abilitare il vostro servizio di Tethering. Il Tethering Bluetooth attraverso il Tethering Bluetooth potrete di condividere il collegamento Wi-Fi. O quello 3G con altri dispositivi che ne sono sprovvisti. Per farlo, dovrete attivare il vostro sistema di Bluetooth. I vantaggi, anche rispetto al Tethering tramite Wi-Fi o cavo USB sono evidenti. Vi sarà possibile condividere sia la connessione Internet Wi-Fi che quella a 3G. Per farlo, vi basta razionare semplicemente una tecnologia. Quella Bluetooth, che ormai diffusa sulla quasi totalite dei dispositivi mobili. Ci sono, per, anche dei piccoli limiti. La velocità di connessione e la distanza di funzionamento rimangono. Ovviamente, quelli previsti dalla versione Bluetooth in uso sul vostro Davis. Occorre assicurarsi, badate, che, all'interno delle impostazioni Bluetooth, il telefono possa risultare visibile agli altri dispositivi. Per farlo, bisogna entrare nel man Tethering e router Wi-Fi e cliccare sul segno di spunta su Tethering Bluetooth. Per utilizzare adesso la connessione Internet sugli altri dispositivi, occorre creare un semplice collegamento Bluetooth con il dispositivo che funge da hotspot. Tethering Bluetooth a accorgimenti bisogna ricordare, infine, che la procedura è completamente gratuita. Sempre meglio, per, non abusarne e bisogna sempre controllare i dati APN per fare in modo che il procedimento avvenga. Nella maniera corretta, se prestate la vostra connessione 3 grammi. Inoltre, controllate sempre, in maniera preventiva, la disponibilità di traffico che avete a disposizione. Onde evitare costi aggiuntivi inutili. Non avrete limiti di tempo. Ricordate, per, che il processo di Tethering accelera di parecchio lo scaricamento della batteria del vostro dispositivo.